Sta lottando tra la vita e la morte in condizioni gravissime al cafoncello di Treviso, il 17enne di Casella d'Asolo, coinvolto in un terribile incidente stradale a Pagnano, domenica pomeriggio alle 17, quando un'auto condotta da Angelo Fantato, 93enne di Volpago, si è schiantata contro quattro ragazzini in moto. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare, i giovani sono stati trasportati tutti in ospedale, con diverse ferite che però non avevano destato particolare preoccupazione, ma per uno di loro tutto è precipitato nella notte, le sue condizioni si sono aggravate e per lui i medici non hanno ancora sciolto la proniosi, una vicenda che ha sconvolto la comunità. Un ragazzo come tutti, piaceva le moto. Era una grande passione quella sua per le moto. Era una grandissima passione, non grande. Non si sa come sia successo. I vicini non vogliono credere a quello che è successo, a questo ragazzino che compirà 17 anni ad aprile, fresco del patentino per moto che ama da quando era piccolo. Suo papà ancora da piccolo le aveva regalato una minimoto, così per soddisfare la sua passione. Lui andava attraverso i campi, qui davanti alla sua casa c'è una pista, una pista da cavalli, però lui si scatenava con la sua minimoto. E dopo col crescere, va bene, si è fatto la patente dello scute, andava con questo cross, ma sempre per i campi. Purtroppo è successo quello che è successo. Mi dispiace tantissimo. Si stringono tra il dolore e l'incredulità di quanto accaduto e l'enorme speranza che il giovane possa farcela. Grazie. Grazie. Grazie.